La causa di tutti i mali non è stata la moneta unica, ma il regime di austerità che ha bloccato gli investimenti non ha fatto più respirare l'economia. Così il vicepresidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella, intervenuto a Termoli per sostenere il candidato sindaco del centro-sinistra, Angelo Sbrocca, ricandidato a Bruxelles con il Partito Democratico e affiancato dalla segretaria regionale, Micaela Fanelli, ha parlato di un laboratorio aperto di europrogettazione in città. È impensabile, ha osservato Pittella, una candidatura alle amministrative anti-europee, perché significa pensare con miopia, incapacità e mala fede. Serve più Italia in Europa anche con un ruolo di maggior prestigio e di maggiore forza. E serve più Europa in Italia nel senso di europeizzare la nostra mente, la nostra cultura e anche la capacità di utilizzare le risorse europee. Qui la regione Molise sta facendo un buon lavoro con Paolo Frattura. Abbiamo bisogno di sindaci come Angelo che dedichino una particolare attenzione ai programmi europei. Secondo la segretaria Fanelli serve un partito democratico forte, capace di raccogliere un voto di speranza che superi quelli di rabbia e protesta o l'astenzione. Pittella ha quindi indicato i buoni propositi in termini di investimento e di lavoro collegati al mezzogiorno, un impegno addetto in cui il PD vuole agire in prima linea dentro e fuori i confini nazionali. Il PD è il partito che vuole cambiare l'Europa, che vuole archiviare la stagione e l'austerità per riprendere gli investimenti pubblici, perché ha bisogno di respirare, l'economia ha bisogno di respirare. Per creare nuovi posti di lavoro c'è bisogno della ripresa degli investimenti. Il PD è il partito che si batterà per aprire il cantiere degli Stati Uniti d'Europa. E in merito a un suo presunto coinvolgimento nell'inchiesta che riguarda l'Expo di Milano, Pittella ha risposto così. Nulla, totalmente nulla. Ho già risposto al Corriere della Sera. Ho incontrato una persona e non ho parlato di Expo. Punto.